Un soprano che dà il titolo all'album Spraina una soffa per cercare lo sul divano perché ho pensato a questo album e ho pensato al momento giusto per aspettare un album e per me, personalmente, quando dopo la lunga giornata di lavoro arrivo un helicopter stanto, volevo sbagliare e mettere il cervello su di là, ma aspettare un disco ora, per staccare quindi chill, chill, relax, put your brain on the sofa, and ascolta un musica